L'ultima frase della poesia di mio nonno, apparteniamo a morte, siamo persone serie, la morte è una livella, per cui rimaniamo tutti persone serie. Ci continua a regalare questa gioia e bisogna andare avanti, la gioia ci permette di andare avanti e di mantenere la bontà che aveva lui, perché comunque se no la cattiveria ci sopraffa e invece bisogna continuare a combattere contro la cattiveria. Con queste parole la commozione nel cuore Elena De Curtis, nipote di Totò, ricorda suo nonno durante la cerimonia di deposizione di fiori alla cappella nel cimitero di Santa Maria del Pianto. L'omaggio della città al grande principe della risata, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla cultura Nino Daniele, rientra nelle numerose iniziative organizzate in questi giorni per ricordarlo a 50 anni dalla scomparsa. Sono davvero entusiasta della qualità delle iniziative, dalla partecipazione, dalla grande emotività. Sono passati 50 anni ma Totò è qui nella città e tra i napoletani, insomma siamo davvero soddisfatti. Poi sono ancora tantissime iniziative, quindi andiamo avanti. Poche altre volte nella storia culturale della città intorno a una grande personalità dell'arte e della cultura abbiamo registrato una così capillare, unanime mobilitazione. C'è un grande sforzo creativo, ognuno sta mettendo sentimenti, pensieri, creatività inventiva per trovare un modo originale proprio per celebrare Totò. Ho visto e vedo la città unita e penso che in questo momento sia un altro grande dono che il grandissimo Totò sta facendo alla città che amava e che ha saputo rappresentare, che rappresenta sempre di più in tutto il mondo con la sua arte immortale. Grazie a tutti.